Quindi ragazzi, prima di tutto avvelenandoli, secondo te, privandoli di materie che vanno condivise con il futuro. In California ci sono molti di questi centri di riparazione e riuso che producono anche un fatturato estremamente elevato. Vedete tutti questi porti, bagni e così via. Molto di quel materiale che viene trattato a livello industriale proviene proprio dalla devoluzione degli impianti.